È stato consegnato nel quartiere generale di Latterie Vicentine il ricavato della vendita della forma gigante del formaggio della transumanza. 4.000 euro, la somma devoluta da Latterie e d'altrettante realtà del territorio. 1.000 euro ciascuno sono andate alla cooperativa Jonathan di Pove, al gruppo Amicizia di Arzignano, al filo di Setollos di Sarcedo e alla scuola materna di Bressanvido.